Eh beh, quello più antico del mondo. Ticchi! E' così che si dice, no? Io sono pronta. Io no. Ci posso ritirare? C'è un pigiamino che è la prima volta che lo porto. Che pigiama è? Io dormo nudo, lo sai no? Quale? Tutto di pizzo. Ah sì, sì. Anch'io ne lascio i dormo nudo, eh. Beh, vorrei vedere. Fagli la faccia, vorrei vedere. Fagli la faccia, la faccia. Anche con questo. Ammi lo sguardo, quello. Vai, vai. Ticchi, ticchi. Fagli la faccia. Aspetta, perché questa è una preparazione. Come con il sipario, no? Qui c'è il sipario. Sono già ubriaca di mio. Si può vedere così. Non pensare di farmi sta facendo che mi alza, vado via. Sì, tutta la sera, mi raccomando, quelle tre cose che hai imparato. Ma se hai detto che sono fidattata dalla tua amica e quindi... Appunto, ti distolgo dalle ballerine. Devi farmi stare male, devi distogliermi. Ti distolgo dalle ballerine con le quali tu potresti cadere in tentazione, distrusciamenti vari. Quindi io attirerò l'attenzione su di me costantemente tutta la sera, ma dove tu non cadi in tentazione. Giusto.